La questione del centro e-commerce a San Salvo approderà in Consiglio regionale, forse martedì. Si parla dell'autoporto del comune in provincia di Chieti, abbandonato da 12 anni, costato circa 9 milioni di euro, ma mai entrato in funzione. Ora una società ha presentato un'offerta di 3,7 milioni di euro per acquisire il sito dall'Arap, con l'intenzione di farci un grande polo del commercio online per conto di una multinazionale, presumibilmente Amazon. La Lega però, tramite il presidente della Commissione Attività Produttive, Marco Vecchio, ha chiesto l'ulteriore passaggio in Consiglio. Alcuni, tra cui il sindaco di San Salvo, la leghista Tiziana Magnacca, hanno criticato questo rallentamento burocratico e questa mattina il Carroccio ha organizzato una conferenza stampa per difendere l'operato in regione. Ci siamo subito preoccupati di riportare la procedura di una condizione di sicurezza a tutela degli investitori, a tutela della credibilità dell'azione amministrativa della regione Abruzzo. Nel frattempo però sono comparsi in città alcuni striscioni di contestazione e non da parte di attivisti di sinistra, ma dagli stessi militanti del partito di Salvini, che vogliono sia Amazon, ma non il coordinatore regionale Deramo e la consigliera Sabrina Bocchino. La Lega si legge in un comunicato firmato dalla Lega di San Salvo e Dogliola e a un bivio continuare a vivere di rendita della fiammata iniziale, pensando che basti essere amico dell'amico del leader e farsi una foto con quest'ultimo per continuare a raccogliere consensi, oppure, continua il comunicato, costruire una classe dirigente capace e candidare sempre l'espressione migliore del territorio e non all'asino politico di turno solo perché sarà sempre fedele. E' un giudizio impietoso da parte della base del partito nei confronti dei vertici dopo le recenti sconfitte elettorali. Ma Deramo non si scompone. Mi preme ricordare, ha detto l'Onorevole, che la linea la scelgono i coordinatori regionali e provinciali, anche dopo dibattito interno, e poi tutti, aggiunto Deramo, la devono seguire. Intanto associazioni di categoria esprimono perplessità riguardo il pollo del commercio online. L'e-commerce, infatti, che ha aumentato in maniera esponenziale i propri profitti durante il periodo Covid, rischia di affossare le piccole attività locali.